E' una zingara, è una straniera, è una strega, una cagna, una gatta, stava scalza al vento alla sua nudità, è un peccato mortale, magia, dovrebbe vivere in gabbia, che lei non possa strappare i nostri cuori onesti incatenati a Notre Dame. Stasera le arriveremo più vicino e poi la prenderemo e l'imprigioneremo in una torre, e lì le mostreremo la religione di Gesù Cristo, del ventre santo di Maria. A me, qualsiasi cosa, solo se la domanda sia a me, io la farei soltanto se tu, tu la chiedessi a me, io la farei per te, io la farò per te. Grazie a tutti.